Yeee! Bentornati! Cosa vuol dire quando mi presento in schermo con la mia gioenda? Ebbene sì, siamo di nuovo qui a parlare degli wow del mese, ovvero quelle 10 cose che mi hanno fatto dire wow nel mese di luglio. Come sempre in collaborazione con la tribù degli wow trovate tutti i link qua sotto nell'info box. Luglio è stato un mese molto particolare perché sono stata via da casa tutto il mese. Queste sono le 10 cose che sono state con me o perché le ho prese là o perché me le sono portate e che mi hanno letteralmente salvato il mese. Essendo al mare in una casa senza wifi purtroppo non ho serie tv, non ho film e non ho inserito neanche un libro questo mese. Andiamo a vedere quali sono queste 10 cose. E cominciamo subito con l'evento. Ovviamente vi ho anticipato, ma lo sapevate già, sono stata al mare tutto il mese. Il posto dove andiamo al mare non è uno dei miei preferiti. Mia mamma affitta una casa tutti gli anni a parte di marmi, le piace molto. Non lo so, ci vado da quando ho penso 12 anni, forse anche prima, però non mi è mai entrato particolarmente nel cuore. Però quello che mi è entrato nel cuore e che svuota il mio portafoglio ogni anno è il mercato del forte. Settimana prossima sarà online nel blog LOL con tutto quello che ho comprato al mercato del forte e quindi capirete molte cose per chi ancora non avesse visti i miei haul. Il mercato del forte è un mercato molto particolare, è un mercato abbastanza caro, ma che ha sempre delle produzioni artigianali di buona qualità o di altissima gamma. Ha dei prezzi alti per essere un mercato, ma convenienti rispetto all'acquisto in boutique. Comunque ne parliamo poi settimana prossima. Sicuramente mi ha salvato il mese questo prodotto di Human Plus Kind che io avevo preso al Cosmoprof per 5€ e che andrò a ricomprare quando finirò di utilizzare anche il secondo. Sto parlando dei pannetti in microfibra per struccarsi. Questo prodotto è fantastico perché è estremamente delicato, quindi anche su una pelle sensibile come la mia non crea problemi. In più vi consente di non usare prodotti, quindi basta bagnare il pannetto con l'acqua tiepida e toglie tutto il trucco, quindi non ho dovuto portare struccante con me e quando si viaggia è veramente molto comodo. Si lava, io lo lavo col sapone di Marsiglia dopo ogni utilizzo. A me l'altro pannetto è durato quasi 3 mesi, dopo 3 mesi è iniziato a diventare duretto e poi anche per una questione di igiene ho preferito buttarlo. Adesso ho cominciato a usare quello nuovo. Da Sephora mi sembra costino 7 euro due pannetti, per me sono una grandissima soluzione, veramente mi stanno piacendo moltissimo. Se ne stanno andando. Terzo prodotto, terzo prodotto il bagno schiuma che mi sono letteralmente bevuta nel corso del mese è questo della nuova linea dei bagno doccia di Yves Rocher. Questo qua è menta piperita e lampone, è buonissimo, è buonissimo. Ha un profumo veramente molto intenso, sotto la doccia è molto intenso, ma vi consente usciti dalla doccia di usare dei prodotti idratanti profumati perché non permane troppo sulla pelle, non rimane troppo fastidioso. Cioè per capirsi lo facevo usare anche a Mr. Marito perché ho portato solo questo al mare. E quando veniva a trovarci lo usavo anche lui e non sapeva di lampone quando usciva dalla doccia. Quando uscivo dalla doccia invece usavo questo, che è un prodotto di The Body Shop che mi avevano inviato ancora quest'inverno, che mi piace un sacco. E' uno dei loro butter, body butter, quindi il burrocorpo, alla camellia giapponese. E' fantastico, cioè ne ho usato tantissimo, mi piace molto. Mi sembra di aver toccato il fondo, ha un perfumo molto delicato, molto leggero. Sa proprio di pulito, di pelle fresca, di pelle pulita. E idrata bene, essendo un burrocorpo è molto intenso. Io lo usavo proprio perché dopo l'esposizione al sole cercavo un prodotto che mi desse un po' di idratazione, un boost di idratazione. Mi è piaciuto un sacco, mi sta piacendo un sacco. E siamo a quattro. Quinto prodotto è un prodotto di uso, ovvero una borsa. La borsa che mi ha fatto compagnia tutto il mese ed è questa. Non ve l'avevo mostrata, è la borsa che Mr. Marito mi ha comprato in Francia. Me l'ha comprata a Darl, perché la borsa nera con cui andavo sempre in giro, la mia borsa dei viaggi, iniziava a perdere le copelle sulle spalline, si stava distruggendo. Quindi l'ho lasciata in Francia e Mr. Marito mi ha comprato questa. L'ha pagata a 30 euro. E' in cotone, in tessuto, ma rinforzata sia sul fondo che sulla cucitura dalla pelle. E' copelle, ha questo piccolo charms e la stella argentata. Si chiude con una zip, è estremamente capiente, forse troppo, perché io la riempio e poi pesa moltissimo. Ma l'ho portata con me tutto il mese, dalla Francia in poi, praticamente è stata la mia compagna di viaggio. Un prodotto, e siamo a 6, che vale come abbigliamento. Sono ancora stropicciate, perché non l'ho ancora stirata. Sono una pessima donna di casa e sono queste due magliettine, che voi non avete ancora visto, ma che io vi ho già mostrato nel doll di parte dei mani, presa al mercato del forte. La prima è questo top, con la spalla cut out, praticamente, cortino, ma che mi copre l'ombelico ampiamente. 100% cotone, azzurro, questo è un azzurro serenity, per usare i termini pantone. Mi piaceva moltissimo e l'ho presa al mercato del forte e ne ho fatto un grandissimo utilizzo. Adesso devo stirarla per ricominciare a usarla, ma ho cercato di prendere delle cose che potessi riutilizzare anche in città. Questa è una di quelle, mi piace tantissimo col jeans e la zippa. Altro modello è questo, sempre con la spalla scoperta, in questo caso completamente scoperta. Loro lo vendevano come vestito, ora, anche nel video vi ho detto che forse sono troppo vecchia, ma io lo uso come maglia lunga, quindi ci metto sotto una buona fascia o un pantalone. Sempre 100% cotone, mi piace da pazzi. Settimo prodotto è un prodotto che purtroppo non ho qui, perché è nel passeggino, il passeggino è fuori con Gregorio, ed è un prodotto anti-zanzare, perché al mare io ho il problema che le zanzare mi martoriano e anche Gregorio quest'anno è stato abbastanza martoriato, quindi al forte abbiamo trovato questo prodotto che è uno spray naturale, che va bene anche per i bambini, poi ne fanno una versione invece anche potenziata per gli adulti. Noi abbiamo usato quella per i bambini e vi giuro funziona da dio, spruzzata sulle lenzuola, sul passeggino, sui vestiti. Ha veramente migliorato il nostro livello di vita e il marchio si chiama Alontan. Alontan è tra l'altro fatto in Italia, se trovo il sito internet ve lo linko qua sotto, è un prodotto che veramente mi ha salvato la vita. Se avete problemi di zanzare provate a vedere se riuscite a recuperarlo. Fanno tutta la gamma, anche l'after bite e anche i braccialetti, io ho usato solo lo spray. Al suo perché? E veniamo all'angolo del ciccione, perché il ciccione si ciba anche in estate. Allora, una cosa che tanto ciccione non è, ma che veramente è buona, sia calda che fredda, è la tisana allo zenzero e limone di Pompadour. Sia calda che fredda, buona, veramente buona. È poco limonosa e tanto zenzero, pizzicare le pizzichine un pochino, ma mi piace un sacco. Sicuramente la ricomprerò. E invece al forte sono famose le focaccine, fanno delle focacce buonissime, di vari tipi, alte, basse, croccanti, piccole, grosse. Focaccia, cioè io e Gregorio abbiamo mangiato un sacco di focaccia, infatti adesso dobbiamo rimetterci a regime. Io, lui invece, può continuare a mangiare focaccia. E l'ultimo wow è, come sempre, lo wow di Gregorio. Gregorio che all'alba dell'anno e tre mesi ha imparato a fare ciao ciao con la mano, ma lo vedrete sperimentare quest'arte nei prossimi video, perché ho girato un paio di video con lui, che vedrete nelle prossime settimane. E c'è anche lui e lui vi farà ciao ciao, perché adesso che ha imparato a fare ciao ciao, saluta tutti. Cioè, si va in giro sul passeggino, lui saluta tutti, si entra nei posti, lui saluta tutti. Al mare si affacciava al balcone e salutava la gente che passava per strada. Quindi, lo wow di Gregorio di questo mese è ciao ciao. Non dice ciao ciao, fa solo così con la mano. Arriverà anche il verso. Questi sono i miei dieci wow di questo mese. Fatemi sapere quali sono state le dieci cose che hanno reso il vostro mese di luglio wow. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Anzi, ciao ciao! Ciao!